Nuovo appuntamento con Cibo e Dintorni, ben ritrovati. Oggi sono in compagnia di un personaggio di spicco, vorrei dire, nel mondo della pizzeria partenopea e non solo. Un personaggio che non si è mai fermato anche durante il lockdown, anzi la sua mente è risultata particolarmente feconda. Sono con Enrico Porzio, titolare delle omonime pizzerie. Restate con me. Eccolo Enrico Porzio, allora ti ho definito una mente feconda, particolarmente ispirata, vorrei dire, da questo periodo tremendo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Ma tu appunto non ti sei mai fermato, tant'è vero che hai inaugurato una serie di piccole porzioni di pizza. Sì, in effetti in piena pandemia, anche se pur sotto Natale, ma era piena pandemia, abbiamo aperto il 12 dicembre il punto vendita di via Bernini al Vomero, quindi il secondo dopo quella di via Pomeo, riguardante la pizza in teglia. Per molti sono stato un folle, ma io voglio soltanto lanciare dei segnali positivi verso i tanti collaboratori che ci danno una mano, ma anche verso le persone che poi sono quelle che ci danno la forza di andare avanti. Quindi semplicemente dei segnali positivi, prima o poi tutto questo dovrà finire. Certo. A proposito di lockdown, tu ti sei inventato in questo periodo, a ulteriore dimostrazione, che lui non è solo un pizzaiolo, è quasi un genio, una pizza divertente dal mio punto di vista. Sì, in effetti quasi scherzosamente, pochi giorni prima di diventare gialli, perché ormai fra giallo, l'arancione e il rosso, qui non si capisce più niente, abbiamo lanciato questa pizza sui social, un video che poi è diventato virale, che si chiama Apri e Chiudi. Quindi questa pizza, che era metà pizza e metà panino, proprio in virtù del fatto che tutti questi cambiamenti ci stanno dando grossa difficoltà anche a noi, operatori del settore. E quindi, diciamo, in piena confusione troviamo anche il tempo di essere un po' scherzosi. E un po' creativi, ma poi... Poi tra l'altro è una pizza che si sta vendendo tante. E certo. Ma è una pizza poi che rispecchia questo momento di confusione, perché non è né una pizza e né un panino. Esatto, nell'incertezza uno sceglie questa qua. Senti Enrico, ma parlando invece del delivery, dell'asporto, delle pizze che chi sta a casa per forza sceglie, che cosa hai riscontrato? Un ritorno alla tradizione o una voglia di evasione con delle novità? Allora è ben noto che noi siamo la pizzeria dei social, quindi l'80% delle nostre pizze sono pizze molto particolari. Almeno fino a quando c'era la consumazione dei tavoli. Ritornando all'asporto e al delivery, è normale che si sia un po' perso questa abitudine. La tendenza sia verso quella delle pizze tradizionali, quindi margherita, marinara, la pizza fritta, il dipieno, la quattro stagioni. Ovviamente quando poi subentriamo in fascia gialla e abbiamo la possibilità di lavorare almeno a pranzo, ricambia di nuovo la situazione e ci vengono di nuovo riordinate tutte quelle pizze speciali. Certo questo per voi è davvero un periodo allucinante, anche proprio una programmazione risulta difficile. In effetti sì, il vero problema è proprio questo perché addirittura l'ultima volta convinti di dover riaprire poco prima della Befana siamo stati avvisati dieci ore prima che invece saremmo stati chiusi. Quindi è proprio un problema di riorganizzazione ma non dipende da noi, ovviamente dipende dalle istituzioni che ci governano. Va bene, ma noi adesso vogliamo vederti all'opera con uno dei tuoi cavalli di battaglia, qual è la pizza che tu mangi più volentieri? Allora personalmente vado sulla classicità, quindi metà margherita e metà marinara, però ovviamente se ci tenete proprio, visto che siamo in un periodo, vi presento proprio alla apri e chiudi. Allora personalmente vado a tutti i tuoi cavalli di battaglia di battaglia, questa pizza panino è in due fasi quindi? Sì, diciamo che la prima parte che prevede la classica margherita va in cottura, poi quando esce dal forno la tagliamo e la facciamo in modo più innovativo, quindi c'è la tradizione e c'è l'innovazione. Beh, è una pizza importante, magari per due. Diciamo i buon gustai la mangiano anche da sole, eccola qua. Eccola qua, quindi la parte che non è stata... La parte margherita, che è questa qua, con la classicità, poi questa parte che si rigonfia all'interno del forno quando è in cottura, la andiamo a tagliare, eccola qua, e la andiamo a farcire. In questo modo noi abbiamo scelto la mortadella, ma è possibile farcela, diciamo, a proprio piacimento, quindi magari anche col crudo, con le salsicce di fiarelli, quindi con la porchetta, lasciamo spazio all'inventiva del cliente. Poi andiamo a metterci, sì, questa è burrata, quindi dopo la mortadella andiamo a metterci la burrata e la completiamo con una pioggia di granella di pistacchi, eccola qua. Mamma mia ragazzi, vi assicuro che c'è un profumo, anche con la mascherina si sente. Allora, questa qui ovviamente, ecco qua, è nata. È pronta. È pronta e l'abbiamo chiamato. Apri e chiudi perché nei periodi gialli apriamo, nei periodi arancioni e russi chiudiamo. Quindi ecco qua, la pizza apri e chiudi. La pizza apri e chiudi per celebrare con un sorriso questo momento che passerà sicuramente, passerà anche alla storia, ma insomma passerà, e quindi noi vi aspettiamo da Enrico Porzio o anche da Porzioni di Pizza per celebrare con questa apri e chiudi e con tutte le altre meraviglie che il maestro Porzio e i suoi collaboratori, che vedo qui alle spalle, sono tantissimi, ci preparano insomma per celebrare questo nuovo anno 2021, speriamo che sia l'anno del riscatto. Grazie per essere stati con noi, grazie Enrico Porzio, alla prossima. Ciao.